E' un po' troppo girato, però per aspettare un giusto. Gentili ascoltatori, tecnici, registi e musicisti, si stanno preparando per guidarvi alla scoperta della nuova straordinaria tecnica del suono a tre dimensioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti!